Vediamo chi affronta il marchesino, Madenatura, prego, qui c'è un marchesino da combattere Trenta! Ciao, io sono Rosita, ma nella vita faccio la Barbie Dove? Tutti i giorni nella vita Ah! Oggi sono Barbie Tamarra, orgogliosamente Quindi faccio la Barbie, sempre Venga, Barbie Venga, Barbie, venga Scenda, le presento Ken, venga Ken Marchesino Barbie, 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 Barbie Abito, kiddi mi腹, Wisconsin are you a che? Non c'era